Beh, si chiede di continuare il lavoro che è stato fatto e che ha portato nel 2018 all'approvazione del pacchetto legislativo sull'economia circolare e si chiede quindi di fare in modo che le normative che erano previste nel pacchetto del 2018 vengano applicate dagli Stati membri. Ma non solo, perché mentre la prima parte dell'economia circolare, il primo pacchetto, si occupava del fine vita dei prodotti e quindi è andato a aumentare i target di riciclaggio, il limite del conferimento in discarica, con questa nuova risoluzione noi chiediamo alla Commissione per i prossimi cinque anni di proporre tutta una serie di atti che invece vanno a occuparsi del prodotto nel momento in cui nasce. Pensate che l'80% dell'impatto ambientale di un prodotto deriva da parte, dalla progettazione stessa del prodotto. E infatti noi abbiamo chiesto che ci sia una normativa sull'eco-design che non riguardi solo le lampadine come succede ora ma che riguardi proprio tutta la produzione. Abbiamo chiesto di efficientare tutto quello che ha a che fare con gli eco-label piuttosto che appunto mettere in campo normative specifiche che vadano ad aggredire in maniera specifica alcuni settori fra cui quello delle batterie, quello dei tessuti e quello chiaramente degli imballaggi fra cui la plastica sappiamo quanto l'Unione Europea stia puntando sulla riduzione del consumo di plastica. È una risoluzione quindi sono tutta una serie di richieste che noi facciamo alla Commissione le facciamo dopo che la Commissione ha presentato il suo piano quindi andiamo a integrare questo piano e a chiedere velocità d'azione quindi insomma ci auguriamo la misura legislativa sulle batterie uscita nel dicembre scorso ecco ci auguriamo che tutte queste altre misure arrivino il prima possibile siano discusse dal Parlamento e di procedere verso l'economia circolare perché ne parliamo spesso, ne parliamo tanto però soprattutto adesso in un momento in cui dobbiamo predisporre i piani nazionali di ripresa in cui è previsto che il 37% delle risorse sia destinato a progetti che vanno nella direzione del contrasto al cambiamento climatico beh è chiaro che l'economia circolare è fondamentale perché il contrasto al cambiamento climatico si raggiunge se si sposta il sistema da un'economia lineare a un'economia circolare.